Vivi, odi, balla è lo slogan scelto per la quinta edizione del Festival D'Annunziano che a Pescara andrà avanti fino al 10 settembre con un ricco programma di eventi tra sport, arte, musica e spettacoli consultabili dettagliatamente sul sito www.dannunziowic.it dove sarà anche possibile effettuare le prenotazioni per alcuni spettacoli gratuiti. Il Vate Poeta e Letterato sarà il filo conduttore dei convegni a tema organizzati per questa edizione tra cui quello che si è tenuto questa mattina all'Aurum di Pescara e che ha aperto il Festival come spiegato al TG8 da Giordano Bruno Guerri, direttore artistico del Festival D'Annunziano. Il nostro lavoro principale è stato liberarlo da pregiudizi che non riguardavano soltanto il fascismo ma riguardavano giudizi ottocenteschi sui comportamenti sessuali, libertari, consumistici. in realtà era un donatore di libertà di cui godiamo anche noi. Direi che la novità principale è che dopo essersi occupato tanto di dannunzio politico, dannunzio guerriero, dannunzio conquistatore di città, quest'anno ci occupiamo di dannunzio poeta perché è poeta, è un grandissimo poeta, quindi due convegni sulla sua poesia, una tavola rotonda su cosa ne pensano i poeti contemporanei e poi tutto il resto prosegue con studi, concerti, allegrie, sport e tutto quanto è legato a lui. Che intellettuale sarebbe stato oggi dannunzio nel 2023? Sarebbe stato un intellettuale superiore agli altri come era nell'Ottocento e all'inizio del Novecento. Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio regionale, quinta edizione del Festival D'Annunziano. In questo momento siamo anche all'interno della Sala degli Alambicchi nel Aurum di Pescara dove si inaugura la mostra a cento anni di aeronautica militare. L'Associazione Arma Aeronautica ha voluto allestire questi tabelloni che ricordano dalla nascita dell'arma aeronautica fino ai giorni nostri l'impegno che questi uomini in divisa hanno per la nazione. Riteniamo che il Festival D'Annunziano sia uno degli eventi culturali più importanti d'Italia. Siamo alla quinta edizione. Il cartellone è molto ricco, dallo sport alla cultura, dal teatro alle mostre, alla musica colta e alla musica leggera, dalla classica del conservatorio al rock di Morgan. Ha citato prima Morgan, rientrate quindi anche le polemiche. Le parole di Morgan, le ho già dette, non sono ammissibili, ma questo lo ha riconosciuto anche lui, scusandosi più volte. Così come è anche ammissibile che il pubblico offenda un artista. La buona educazione dovrebbe essere da entrambe le parti che ha maggiori responsabilità, in questo caso l'artista, deve evitare di cadere in provocazione. Io sono certo che sarà un grande spettacolo di musica. Lo spettacolo di Morgan è stato scelto perché ripercorre la storia dei principali cantatori della canzone italiana. Il festival di annunzione è dedicato alla poesia quest'anno, quindi la logica era quella di premiare una ricerca sui testi.